Il percorso verso la demolizione delle opere abusive del complesso turistico alberghiero Hotel Castel Sandra ha compiuto un altro importante passo in avanti. L'aggiunta comunale ha infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa che verrà sottoscritto tra il comune di Castellabate, il Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano e la Sogesid, SPA, ditta e incaricata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di curare la demolizione dei manufatti realizzati abusivamente accanto al corpo centrale della struttura. Il protocollo disciplina le attività da intraprendere per la demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rinaturalizzazione del sito. Il passaggio in giunta era propedeutica alla sottoscrizione del protocollo. La vicenda dell'hotel Castel Sandra si protrae ormai da molti anni, spiega il sindaco Costabile Spinelli. Mai prima d'ora siamo stati così vicini alla sua risoluzione. Con la demolizione delle opere abusive e la riqualificazione dell'area al comune potrà mettere a disposizione della comunità di Castellabate una struttura importante e con un grande valore simbolico, visto che esso rappresenta la vittoria della legalità. La struttura alberghiera del Castel Sandra, di località Piano Melaino nella frazione di San Marco di Castellabate, fu realizzata da una coppia di belgi a metà degli anni 70. Successivamente fu venduta ad una società napoletana che realizzò 26 residenze abusivi ed ampliò illegittimamente il nucleo originario. Nel 1992 fu confiscata su disposizione del Tribunale di Napoli alla società hotel Castel Sandra legata al clan gamorristico dei Nuvoletta. Attraverso il protocollo d'intesa si procederà concretamente all'elaborazione del piano operativo e a disciplinare le attività da intraprendere.